I tiri programmati al millimetro e colpi più studiati spesso finivano semplicemente fuori dal campo, ecco qual era il prosaico problema di fondo. Il capriccio e l'ingiustizia di tutto questo faceva quasi uscire pazzi alcuni ragazzini e nelle giornate veramente ventose questi ragazzini che avevano talento a palate rischiavano di avere la loro prima furibonda crisi di nervi, con lancio di racchetta più o meno verso il terzo game della partita, di cadere poi in una sorta di coma depressivo entro la fine del primo set, aspettandosi ormai con amarezza di venire fottuti dal vento, dalla rete, dal nastro e dal sole. Io che ero stato affettuosamente ribattezzato lumaca perché era una merda di lavativo negli allenamenti, individuavo la mia più grande dote tennistica in uno strano distacco quasi robotico da qualsiasi avversità di vento e clima che non riuscissi a prevedere. D'altronde l'accettazione della realtà è una fonte di energia in se stessa e ci vuole immaginazione perché a un giocatore piace il vento, e a me il vento piaceva. O meglio sentivo quantomeno che il vento avesse il diritto fondamentale di essere lì, lo trovavo piuttosto interessante ed ero pronto ad espandere le mie competenze di logistica per apprezzare il devastante effetto che una brezza intermittente e turbinante a 15-30 miglia all'ora da sud ovest verso est avrebbe avuto sui miei elaborati calcoli su quanto aggressivamente rispondere al top spin di Joe Capelli Perfetti diretto verso il mio angolo di rovescio. Queste parole sono di David Foster Wallace che oltre ad essere stato uno dei più grandi scrittori americani giocava e conosceva molto bene il tennis. E queste righe tratte dalla raccolta di saggi tennis tv trigonometria e tornado mi sono tornato in mente ieri sera guardando alcuni caotici passaggi della partita tra Yannick Sinner e Andrei Rublev, anche perché Foster Wallace parlava nello specifico proprio del vento che batte sul Midwest, seppure quello di Peoria in Illinois e non di Mason in Ohio, e poi perché Sinner e Rublev a tratti mi sono sembrati, lasciando stare per un momento il loro livello tecnico nemmeno avvicinabile, i prototipi tecnici dei giocatori che questo straordinario scrittore tennista manipolava a piacimento grazie all'aiuto della brezza che soffia sul Midwest. Due campioni che per caratteristiche non amano il caos aggiuntivo portato al vento che rende impossibile utilizzare decentemente il loro eccezionali timing sulla palla e l'altrettanto eccezionale capacità di colpire fortissimo e allo stesso tempo sbagliare molto poco. Ieri invece hanno sbagliato e hanno sbagliato parecchio in una partita che è stata per lunghi tratti ai limiti del guardabile e che per tutto il primo set ha visto, decisamente sorpresa almeno a mio avviso, Rublev accettare meglio la frustrazione portata dalle condizioni atmosferiche ed invece un Sinner apparso davvero come uno di quei ragazzini di cui parlava Foster Wallace, un po' depresso e sul volto l'ammarezza di venire fottuto dal vento, dalla rete, dal nastro, dal sole. Le cose però sono iniziate a cambiare nel secondo set con Sinner che punto dopo punto, game dopo game, ha trovato sempre più il limite di spinta, il margine di rischio giusto, con una lucidità complessiva nettamente superiore a quelli di Rublev che al contrario ha cominciato a percepire la crescita dell'avversario e manco a dirlo a innervosirsi. Sinner tuttavia ha dovuto faticare e pazientare per fare la differenza nel secondo set vinto per 7-5 per poi prendere invece il largo nel terzo chiuso con relativa facilità nonostante il tentativo di rientro dal 5-1 sotto di Rublev. Per Sinner in questo periodo di avvicinamento alla US Open continuano le prove non del tutto convincenti sotto l'aspetto della prestazione pura diciamo, ma la vittoria di ieri è stato quantomeno un segnale di accettazione e di un'evidente frustrazione aspettando un salto di qualità nello stato di forma. Frustrazione invece non gestita ieri l'altro da Carlos Alcaraz uscito giocando, parole sue, la peggiore partita di sempre contro quel vecchio volpone di Gaël Monfilz che si è tolto una soddisfazione eccezionale a suon di dritti cioppati che hanno fatto davvero uscire dai gangheri lo spagnolo. Alcaraz nel post partita si è molto lamentato delle condizioni di gioco del centrale a detta sua ma non solo sua dato che il pace index sembra effettivamente confermarlo molto più veloce rispetto all'anno passato ma soprattutto sostiene sempre Alcaraz condizioni molto diverse dai campi secondari dove peraltro i giocatori si allenano. Sulle condizioni di gioco e soprattutto sulla percezione della velocità dei campi è sempre difficile esprimere un giudizio senza essere sul posto e alle volte anche essendo sul posto ma certamente la qualità del tennis vista in questi giorni sul centrale non è stata altissima e forse che i campi all'interno dello stesso torneo siano così differenti non è una buona idea per lo spettacolo. Tornando a Sinner il suo prossimo avversario sarà Alexander Zverev che tra i molti top 10 in difficoltà in termini di continuità di rendimento in questo momento spicca proprio per la costanza con cui riesce bene o male ad arrivare sempre piuttosto avanti nei tornei. Stanotte contro Ben Shelton ha rischiato grosso ma alla fine l'ha spuntata ancora una volta e quella con Sinner si prospetta una sfida decisamente interessante anche perché l'italiano l'ha sempre sofferto parecchio. E nel momento in cui registro in semifinale ci è arrivato anche un redivivo Francis Tiafoe che puntualmente quando si avvicinano gli US Open trova in qualche modo il picco di forma ma che stanotte ha soprattutto sfruttato il ritiro dopo un set di Uberturkac. Un ritiro che getta un'ombra su un rientro post operazione di rimozione di un menisco che fino a ieri era apparso sorprendente per rapidità e qualità immediata mostrata sul campo. Tiafoe peraltro nel turno precedente aveva battuto un altro rientrante diciamo ovvero quell'Iri Lechka che aveva tanto impressionato a Madrid prima di venire abbandonato completamente dalla sua schiena. Anche in questo caso come in quello di Urkacz l'impressione fin lì lasciata da Lechka è stata molto buona e nonostante sia rimasto tra le teste di serie potrebbe essere una delle mine vaganti nel tabellone del US Open soprattutto a partire dal terzo turno. Infine sempre nel momento in cui registro ovvero alle 3.58 di domenica mattina deve ancora iniziare l'ultimo quarto di finale quello tra Jack Draper e Olga Rune. Il danese è fresco dell'ennesimo cambio di rotta tecnica nell'ultimo anno con la nuova separazione da Muratoglu ha dato dei segnali di ripresa giocando fin qui un discreto torneo e soprattutto mostrandosi abbastanza sotto controllo diciamo complessivo. Draper invece sta confermando la crescita degli ultimi mesi anche se nel turno precedente è stato protagonista di un episodio parecchio discusso. Sul match point a suo favore nel terzo set dell'ottavo contro Felix Geriasim giocando una volley dopo il servizio la pallina dopo aver colpito il suo telaio ha evidentemente rimbalzato sul terreno nel suo campo prima di andare dall'altra parte della rete. Si direbbe quindi punto di Eliassim non fosse che il giudice di sedia non ha visto la carambola in questione e Draper non ha confessato l'accaduto perché per esperienza giocando è molto difficile non rendersene conto. Di conseguenza ci sono state ovviamente parecchie polemiche ma detto questo tutto sarebbe stato risolto con un semplice replay a disposizione del giudice di sedia che nell'anno del signore 2024 è abbastanza incredibile non ci sia. Ma il tennis si sa non è conosciuto per essere una disciplina ragionevole e coerente a livello regolamentare. È tutto per oggi vi ricordo di mettere mi piace al video se vi è effettivamente piaciuto e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto così da non perdervi nessuno dei prossimi video in uscita.